L'amministrazione di Pratola Peligna si chiude a Ricce, in una torre d'avorio irraggiungibile ai cittadini, dove il circolo del PD, anche il Movimento 5 Stelle, contesta la scelta dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonella Di Nino, di rimodulare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. I nuovi orari sembrano non accontentare tutti, ma al contrario hanno creato malcontenti e dissapori, da qui la richiesta dei grillini di ripristinare il vecchio orario, con un provvedimento di cui non si capisce la motivazione, la casa comunale, che è la casa del popolo, viene sbarrata e chiusa al pubblico. Con un provvedimento firmato il sindaco, nelle passare settimane viene vietato ai cittadini di poter accedere al municipio dalle 8 alle 11, impedendone l'accesso anche per semplici informazioni o per visionare pubblicazioni di matrimonio, fanno notare da Movimento 5 Stelle. Per i pentastellati di Pratola Peligna non esiste altro luogo pubblico che impedisce l'accesso ai cittadini a un bene e servizio pubblico. Il Movimento 5 Stelle di Pratola denuncia questa prevaricazione e chiede che venga ripristinato un diritto dei cittadini.